Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Nuovo videocorso su una risorsa che però nuova non è, rimanendo peraltro validissima. Vi parlo di Simbaloo, sito di riferimento lo vediamo in alto, nulla da installare, simbaloo.com. Perché dico che nuova non è? Nel frattempo in automatico vedete che abbiamo già l'invito a registrarci. Io per ora clicco sulla X e abbandono. Mi ricordo che trattavo già Simbaloo ormai tanti anni fa nei primissimi corsi per l'utilizzo didattico della LIM, perché lì trova la sua applicazione forse più feconda, ma lo possiamo tranquillamente utilizzare anche a casa. In parole molto povere, grazie a Simbaloo io ho un'unica home page all'interno della quale ho, oltre alla ricerca di Google, solo le risorse selezionate che realmente mi servono, risparmiando così il tempo di andare ad aprire nuove schede del browser ricercandole ogni volta. Allora, la risorsa è gratuita, tra parentesi vedete io ho un adblock qui sul mio browser Google Chrome, cioè una estensione che blocca le pubblicità eccessive. Simbaloo ci ricorda che è una risorsa assolutamente free, ma che in realtà viene comunque manutenuta e gestita, come accade peraltro in molte risorse freeware. La registrazione è gratuita e si effettua dal pulsante verde, vi mostro che è possibile decidere come utilizzare Simbaloo. La registrazione gratuita prevede che clicchiate sul piano personal get started e che poi da lì andiate a cliccare sull'icona, io consiglio blu, azzurra in questo caso veramente, per poter poi inserire l'account ad esempio istituzionale della Google Suite dell'istituto, che ora sapete non si chiama più così, ma è Google Workspace. Nulla vieta di accedere anche con un indirizzo email di altro fornitore. Dal secondo accesso in avanti si clicca su collegati, cosa che infatti ora vado a fare. Clicco su Google, pulsante azzurro di cui abbiamo parlato e seleziono l'account che il mio browser mi propone, in questo caso della mia Google Suite. Ed eccoci alla Simbaloo, Simbaloo, anzi Simbaloo usa un altro nome, qui siamo nel webmix, il mix di risorse, presente all'interno di Simbaloo. Anche in Simbaloo ho le schede, cioè se vogliamo una qualche somiglianza con il browser normale, ma io la seconda scheda che non mi serve la chiudo con X, avendo così soltanto una scheda che al momento si chiama OM, ma la quale poi posso anche decidere di cambiare il nome. Però, ripeto, OM è funzionale. Vi mostro che all'inizio possiamo usare Simbaloo e ve lo illustro tra poco con un link suo specifico, ma penso per esempio alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, dove possa essere comodo avere Simbaloo come home page, abbiamo un comodo pulsante che ci consente ogni volta che avviamo il browser di partire da qui. immaginate tante piastrelle selezionate, potendo così avere Google, YouTube, il libro digitale, Wikipedia, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, molte piastrelle sono francamente da rimuovere, lo vedete, per cui io che cosa faccio? È semplicissimo. Tengo premuto il tasto sinistro sulla piastrella e porto in alto dove vedo l'icona rossa con il bidone. In realtà è un'abitudine che già abbiamo pensando a smartphone e tablet. Per personalizzare invece una piastrella, che cosa facciamo? Clicchiamo la piastrella stessa e andiamo a ricercare, o ancor meglio, ad incollare l'URL di un sito di nostro interesse. Mi viene in mente il sito di Focus. O guardate, RAI Scuola. Digitiamo RAI Scuola all'interno del nostro motore di ricerca. Vedete che io mi sono aperto una nuova scheda per controllare l'indirizzo esatto di RAI Scuola. Non volevo sbagliare. RAI Scuola punto RAI punto IT, lo selezioniamo in blu, tasto destro, quindi tasto sinistro sul comando Copia. Ci spostiamo, vedete, sulla nostra scheda di Simbaloo ed incollo, qui dove c'è il cursore, tasto destro, incolla, RAI Scuola. In molti casi la piastrella si personalizza in riferimento all'indirizzo che ho digitato o incollato. A volte la personalizzazione è più carina, sembrano app. Pensate un po', io me lo ricordo e mi fa sorridere appunto nei primissimi corsi LIM che tenevo tanti anni fa, questo parallelo forse non lo avrei fatto, i tempi non erano ancora maturi. Ora siamo talmente abituati alle app che anche la piastrella di Simbaloo ci è familiare. Io clicco su Add to Webmix e do comodamente la mia piastrella. E io posso e do la possibilità di poter tranquillamente personalizzare ancora ed ancora le piastrelle. Ci sono poi delle piastrelle pre-confezionate molto utili e interessanti. Il calendario, che vediamo qui, la calcolatrice, di modo tale da rendere ai nostri occhi Simbaloo quasi un vero e proprio ambiente a sé. Quando sono pronto, io che cosa faccio? Allora, se clicco in posta come home page, questo sarà sempre ciò che vedrò quando avvio il browser. Altrimenti, clicchiamo sul pulsante Share, lo vediamo, il nostro triangolo, clicchiamo su Copy to Clipboard, quindi il pulsante che copia l'URL di questo Webmix. E adesso, come già faccio ed ho fatto in moltissimi dei miei videocorsi qui sul canale, Trainer Andrea, guardate, io vado sui tre pallini in alto a destra, clicco su Nuova finestra di navigazione in incognito, così da controllare che tutto funzioni bene. Clicco con il tasto destro del mouse, clicco su Incolla o addirittura trucchetto, Incolla e vai. Saltiamo addirittura la pressione del tasto invio se siamo su computer. Guardiamo un po'. Eccoci qua, home, abbiamo il nostro Webmix personalizzato. Qui lo stiamo osservando da browser e da PC. Ovviamente su una superficie di proiezione più ampia, quale poi è quella della LIM, del monitor interattivo, la resa è ancora migliore. Ecco, il servizio è totalmente gratuito, vedete, al più facciamo lo sforzo di cliccare, ecco, la X su quel piccolo bannerino, quel piccolo rettangolo pubblicitario e, vi dicevo, abbiamo anche il vantaggio, se siamo sulla LIM, di avere queste piastrelle azionabili con un tocco e che dunque ci rendono Simbaloo touch. Clicchiamo su Rayscual ad esempio e in altra scheda, così non perdo il mio Webmix di Simbaloo, si aprirà in scuola. Quando ho terminato la consultazione clicco sulla X ma torno sempre al mio Webmix di Simbaloo. E allora lascio a voi la prova pratica su strada. Come sempre vi ringrazio per la stima, per l'affetto e per le condivisioni e vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso. Ciao a tutti e a tutte da Andrea Cartotto.